Cosa vogliamo fare ragazzi? Cosa... Ditemelo! Ditemelo adesso! Cosa ci state cucinando per quest'anno? Perché se non ce lo dite voi, ve lo dico io! Quest'anno va peggio dell'anno scorso! Eh ma due partite! Due partite! Due orrori! Due film horror ragazzi! Se il primo ti è andato bene, è scontato che il secondo ti vada male! A Parma! A Parma! Come sempre, come ogni campionato che si rispetti, dobbiamo regalare punti alle neopromosse! E oggi, quest'anno è il turno del Parma! Come Venezia devono ancora arrivare, quindi vediamo cosa riserveranno quelle parti lì! Come abbiamo regalato due punte alla Cremonese, come abbiamo regalato tre punte allo Spezia l'anno prima! Come sempre, ogni anno, per le neopromosse, il Milan vieni, 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 vieni! Questo è tutto per te! Io sono stato chiaro con Fonseca! Fonseca per me è vita breve! Perché sei l'allenatore del Milan Non sei l'allenatore della squadra creata su FIFA ieri pomeriggio Sei l'allenatore del Milan E sei chiamato E sei obbligato A non fare queste figure di merda Né contro il Real Madrid Né contro il Parma Né contro il Milan Futuro Dove te la può organizzare da te la partita Nemmeno lì Tu non sei autorizzato Non sei autorizzato a fare queste figure di merda Siamo alla seconda partita di campionato Ma Il quadro mi pare abbastanza chiaro E siccome l'anno scorso Il quadro era chiaro sin da subito Anche l'anno scorso Anche Dalle prime partite dove vi dissi Che l'anno scorso ragazzi Di non aspettarsi niente Perché sarebbe andata male Quest'anno Sono qui Nello stesso posto Sono la stessa persona A ripetervi L'esatta Identica Cosa Quest'anno ragazzi Per me il campionato E sei esagerato? Si sono È finito adesso È finito adesso ragazzi E per quanto riguarda me Fonseca Hai già perso la mia fiducia Perché Ti ripeto che sei stato chiamato A fare allenatore del Milan E le false partenze Le fai da un'altra parte Non le fai al Milan E quando vai in conferenza stampa Eh no Quello è fuori forma Quello Non può ancora giocare titolare Non può ancora giocare titolare Perché Calabria può giocare titolare Abbiamo preso 4 gol 3 con Calabria in campo E tutti quelli con Calabria in campo Lui Ha sempre messo lo zampino Dimmi Dimmi secondo te Dimmi secondo te Se Sai fare le tue valutazioni Che poi mi Se penso che Calabria E 6 anni Che è titolare nel Milan Veramente Con i terzini Che abbiamo visto in Serie A È uno scandalo Veramente Atroce E tra l'altro Fonseca Ti ricordo pure Che tu sei Stato capace Dopo 5 anni Di non vincere la prima di campionato Bologna Sampdoria Udinese E E Bologna di nuovo Tu sei stato capace Di non vincere La prima di campionato E oggi Perdiamo a Parma L'ultima volta Era successo Nel 2013 È dal 2013 Il Milan di Allegri Che perde 3 a 2 Ragazzi Siamo più scarsi Del Milan Dell'ultimo Milan di Allegri Perché oggi Mi state dicendo questo Oggi Sabato 24 Agosto 2024 Vi dico già come va il campionato Prossimano Giochiamo di giovedì Forse Forse Vogliamo parlare della partita? Parliamo della partita Prendi Gol dopo 2 minuti Per me la partita è finita Cioè Se per me Se prendi gol dopo 2 minuti E poi ne fai 8 Per me la partita è finita dopo 2 minuti lo stesso Te se prendi gol dopo 2 minuti E poi ne fai 8 Per me hai perso Per me hai perso Perché Gol dopo 2 minuti Manco in allenamento va preso Nemmeno in allenamento Perché tu devi scendere in campo Con la cazzo di testa sulle spalle Poi se prendi un gol Oh ci sta Squadre che hanno finito il campionato Senza subire gol Non sono mai esistite Squadre che hanno vinto campionati Senza mai andare in svantaggio Non sono mai esistite Però tu devi andare in cazzo di campo Con la testa sulle spalle Ed è quello che vi dicevo l'anno scorso Tu hai voglia di rimontare le partite Di fare il gol all'ultimo minuto Perché il gol all'ultimo minuto Oggi ce l'hai Domani non ce l'hai più Però Siccome Fonseca Io ve l'ho detto A maggio Non ve l'ho detto ieri Ve l'ho detto a maggio Dell'anno scorso Vi dissi Guardate che Fonseca Pur quanto bravo Tra molte virgolette sia Non è l'allenatore Che ti svolta la squadra E poi sono stato zitto Oggi Quello che vi ho detto Si è palesato davanti Non è l'allenatore della svolta Sbaglia formazione Mette Un Musa fuori forma Reinders ragazzi Mediano non può giocare Calabria Non può giocare punto La squadra dopo i cambi Ha preso gol Però a livello offensivo Dopo i cambi Qualcosa di più L'ha fatto vedere Ma ragazzi Cioè Io voglio che Analizzate un attimo il campo Perché quelli Il 90% Di quelli che commentano Si fermano A risultato Se Milan perde Sono tristi Se il Milan pareggia Sono così Così Se il Milan vince Sono felici A me piace invece Parlare di campo A me piace Siccome Siccome le partite Devo tenere i miei occhi Che mi sanguinano Che mi sanguinano Incollati qui Parliamo Facciamo Un'analisi di campo L'analisi di campo È molto semplice Se l'ultima In classifica Avesse una squadra E l'ho spiegato In live Perché l'ho spiegato Se l'ultima In classifica Avesse una fase Difensiva Come quella Del Milan Finirebbe Il campionato Con zero punti E sono E mi sto tenendo largo Perché Perché potrebbe andare Perché sotto lo zero Non c'è niente I gol Che prendiamo I due gol del Torino E i due gol del Parma Gol del cazzo Perché sono gol del cazzo Gol Dove gesti tecnici Con tutto rispetto Dell'avversario Io non ne vedo A parte una grossa Caloppata Da parte degli esterni Io Grandi gesti tecnici Non ne ho visti Perché ora Piglia C'è un Un Cristo Il Cristo di turno Si salta sei uomini Oppure Tira Una stecca Da 30 metri Ti fa gol Lì c'è il gesto tecnico E che dici Mi è andata male Ma a parte Le grosse galoppate Sulle praterie Che gli lasciamo Tra parentesi Io grossi gesti tecnici Dagli avversari Non ne vedo La Quello che vi dico È che Vi siete mai chiesti Perché i gol Che prendiamo Non li facciamo mai E non perché Non sfruttiamo i contropiedi Non sfruttiamo i contropiedi Oggi Un paio ne potevano partire E sono rimasti lì Ma vi rendete conto Che nemmeno il Parma Nemmeno Nemmeno la Salernitana L'anno scorso Che è arrivata ultima Ti fanno fare Un gol Nella stessa maniera In cui tu lo prendi Che le praterie Che ti vengono lasciate Non te le lascia Neanche una squadra Di Serie B Vi siete resi conto Conto o no Di questa cosa Vi siete resi conto Che Abbiamo la peggior Fase difensiva Del campionato Da due anni A questa parte E tu ti sei voluto Andare a prendere Un allenatore Solo perché ha avuto La miglior difesa Nella celeberra In Maligan Ora avessi avuto La miglior difesa In Premier League A cospetto di Manchester City Liverpool Manchester United Chelsea Tottenham E Coda Avessi preso L'allenatore Del Luton Che Vabbè Questa è un'esagerazione Che magari Avesse avuto La miglior difesa Del campionato Ti avrei detto Beh forse potrebbe essere Un affare Invece no Ti sei voluto Andare a prendere L'allenatore Che ti faceva più comodo Che ti costava poco E che poi Quando lo mandi in campo Ti fa questo Perché voglia di comprare Giocatori Di fare mercato Ma se tu intanto Mandi in campo Sempre gli stessi Ma Continui a mandare in campo Calabria Che Lui È il peggiore in campo Ancora prima che inizi la partita Evidentemente C'è qualcosa che non va Io sarò esagerato Sarò estremista Sarò pessimista Ma io Non mi vergogno Di ripeterlo Che per me Fonseca Da oggi Zero Zero Per me Sei già out Se fallisci La parte Con Milan Devi fare Bene La partenza L'allungo E l'arrivo Per me Se già sbagli La partenza Sei finito Ci sia domani Con la live reaction Sì 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 Sì